Al termine dell'operazione Macchiage, la Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato denaro ed immobili per oltre 4 milioni di euro nei confronti di un imprenditore operante nel settore delle energie rinnovabili, ritenuto responsabile di una truffa ai danni del gestore dei servizi energetici di Roma, società di diritto pubblico che si occupa dello sviluppo delle fonti rinnovabili ed eroga incentivi. Il decreto di sequestro preventivo per l'equivalente emesso dal GIP sulla scorta dei risultati delle indagini del nucleo di Polizia Economica Finanziaria ha riguardato conti correnti ed immobili dislocati in varie zone del territorio nazionale. Secondo gli investigatori, numerosi impianti di produzione di energia rinnovabile erano stati realizzati senza titolo edilizio o comunque in modo di forme rispetto a quanto dichiarato, in modo tale da indurre il gestore a ottenere cospicui incentivi pubblici. L'imprenditore è stato anche colpito dall'interdizione per un anno.